musica 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 ah te stai cercando ma sei pazzo te ne vai a faticare mi ci stai venendo sotto ma fanno sacche spese ma secondo te me ne vado dal lavoro e non c'ho il piano B ho trovato un altro lavoro perchè se me ne vado che sono pazzo e quale sarebbe questo nuovo lavoro? tieniti forte il cameriere buon brutello cameriere e quanto guadagni? duemila euro al mese? no duemila euro al mese, più le mance che devo dividere con il proprietario, con lo chef che tratta il sommelier e con il parcheggiatore che sta fuori al ristorante ho capito, fai duemila euro al mese comunque vado a migliorare, è un signor lavoro ma non mi dire niente se è fatto tardi ha già affaticato ma scusa ma non hai detto che inizi lunedì? il nuovo lavoro? ma il lavoro vecchio ha già avvisato, scusa così funziona per correttezza, ha già la domba a scuola che non vado più che ne so magari mi deve far filmare qualche cosa ha già mettere qualche chip hai capito? ma tu guardi un po' guardi un po' e volessi sapere chi è stommo e niente che mi ha sceppato la macchina hai visto qua? ebbè volessi voluto un cucciare un po' fatto per la cridola non posso parlare come non posso parlare? hai visto chi è stata? parla, chi è stata? non posso parlare? fammi nomi il cognome, chi mi ha sceppato la macchina? non posso parlare? ma perchè puoi parlare? devo incogliare, purtroppo sapere di questo bruschetta è normale che tu puoi parlare o parli o mangi comunque non posso parlare non posso parlare male di nuovi colleghi com'è di nuovi colleghi? ma perchè che hai saputo? i nuovi colleghi e beh che si dice, ha fatto qualcosa questo nuovo collega? ma chi non ha saputo? no, questo non ha fatto niente e non mi ha capito ma chi stai parlando? felice seccia soltanto allora non mi avevamo fatto i bruschetti a terra mannaggia, mannaggia come è l'ultima volta questo è ciò? io sono andato via dal lavoro l'ho schiappato in colpa e ho fermato la puma ed educatamente gli dico vuoi un passaggio? ebbè? lui sale manca 10 metri ha sbucato la macchina che sbucato? per fortuna che dopo poco mi sono fermato davanti la rossicceria mangio mangiato un cucchiaio un panzarotto e la roba mangio ma vieni a cercare se cosa va va a faticare che ti stai andando un pochino manca la peste ma quando mi... non ne voglio mi stai andando i giorni ora mi scorda pure chi mi metterà la cravatta che stai andando che giornata cominciamo a boh ok va bene le manderò la fattura mamma mia che cavolo non si può stare proprio ma pare questa charme no non è charme è che sei charmato condizionatore pure ha dei soldi è che andrà succedere oggi mamma mia buongiorno Don Pasqua e lei chi è il tecnico del condizionatore? no no signore avevamo appuntamento vi ricordate? chiedete fa troppa cavolo non mi ricordo lei chi è? andrei e chi è? e chi è venuto? non è venuto il mare che non ci fa cavolo che cosa fa? qui ci ha bruciato il frutto io mi cerco soldi mi cerco antici per cercare aumento perché soldi non ce ne sono state tranquillo Don Pasqua che voi a me soldi non me ne dovete dare più ah buona hai fatto il super analotto hai ingarrato sei che ingarrate? no carissimo Don Pasquale non ho fatto il super analotto ma mi sono fatto due conti e quindi sono venuto qua per dirvi che a voi non vengo a lavorare più ah che soddisfazione come sarebbe non vengo a lavorare più? sarebbe che ho trovato di meglio quindi non vengo più e mi diceva così cioè tu fatica con me hai vent'anni sono vent'anni che ti hai cresciuto con mio figlio e tu non hai così io a te non ti ho mai cacciato eh certo Don Pasqua perché sono vent'anni che mi date sempre 800 euro al mese e tu per ciò sei durato vent'anni con me se no non durava cinque minuti non durava ma potremmai te lo voglio è battito hai una fatica della fermiscia è bello Don Pasqua l'ultima giornata di lavoro come saluto eh avulissimo ma gratis ho pagato ma quella pagata tu sai che hai un papà giornata di papà la settimana che ti ha già pagato ah e quindi giustamente l'ultima giornata di otto ore me la hai già fatto così ma bella faccia che ho tenito oi quello che riesce a fare un uomo in otto ore è solamente lavorare ma perché? tu mangi otto ore di giorno? no viva otto ore di giorno? nemmeno riesce a fare l'amore otto ore di giorno? e chi ce la fa? oi quello che può fare un uomo in otto ore è lavorare si vabbè Don Pasqua ho capito bene la filosofia ma comunque non riuscirete a convincermi Don Pasqua è finita me ne vado statevi bene e state bene in bocca al lupo per il tuo avvenire no Don Pasqua forse non avete visto la mano aperta ah e va va buon lavoro Don Pasqua che avete capito? dico me ne vado da lavorare senza una buona uscita la buona uscita e ora faccio lì la buona uscita tu non vuoi dire la buona uscita che uno se ne va la buona uscita no tu riesci a prendere tutte le poste la meglio uscita che si sa la buona uscita la buona uscita la stessa cosa la buona uscita la buona uscita ma per un uraccio e va in bolla e va in bolla ma fate fastidio non è più da fatica la buona uscita voglio per piacere mi fa toccare i neri per partire ma che? noi io non veniamo sempre a casa trovando un posto di lavoro da Don Pasqua si chiama la pelliccia ma Don Pasqua l'ha scartato è normale che l'ha scartato si chiama pelliccia i pellicci si scartano bevete bevete alla mia salute ti dico ma come? un caffè? eh? trovesci un caffè a me mi ha portato a mangiare eh com'è bello vuoi a mangiare voi non posso capire e poi scusami tu non stai facendo la dieta a zona? ma devi andare a zona quando sono fuori zona posso mangiare tu non ci faccio scusare tu vado a fare che collo vado a torre se lo va non fare così tu devi essere contento per me ho avuto un posto di lavoro vado a migliorare ma come facciamo come facciamo senza l'odore come facciamo immagino come si farà senza di me a lavorare? no a chi sputtiamo a chi pariamo quello ma Tadu Tadu tu lo sai se ti hanno posto pure per me fammi sapere io sono single ma posso muovere capito? direi pure tra dieci anni chi rimane sempre single ti preoccupare ma io ci chiuso proprio che fermi non voglio capire non voglio capire non voglio capire niente ho deciso adesso andrò a coinvivere con un animale domestico tipo un animale della compagnia che so un cane un gatto no no un maiale un maiale? come fai la convivenza con un maiale? scusa e poi la puzza come si fa? si chiudono maiale dopo un mese abito ahahahahah uè ma non mi dite niente mi ragione che ci va a mettere la mano che è? ci sentiamo ciao ciao papi bocca al lupo da tu e non mangi assai e quindi cambi lavoro uè se c'ha hai saputo? eh 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 cambio lavoro vado a migliorare e ora ho saputo assoluto a tutti quanti per offrirvi un caffè a tutti i colleghi bevi 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 il caffè non lo prendo fa male eh va bene è bella questa camicia ma è nuova ti piace eh? l'ho comprata proprio ieri fresca fresca per il mio primo giorno da cameriere è bellissima è bianca 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 mannaccio menestrella uuuh che peccato e allora io ti saluto ciao mamma mia che seccia seccia? si sono io Don Pasquale li aspetta nel suo ufficio subito ma non sono alti questi tacchi per il lavoro ma no vanno bene seguitemi oh mamma mia forse è meglio che vai tu avanti vai vai seccia vai vai prego prego Don Pasquale mi avete fatto chiamare sono seccia che cosa? no che tu marco cartellini precisi la mattina quando vieni a faticare senti se c'è c'è da fare una consiglia una volata però perchè stanno il chiave mi raccomando sarò una scheggia uuuuh che peccato tutte le scheggette erano di valore senti fa una cosa rammanatevi del chiave il furgone vai a roppo con il rosario che è meglio il furgone è nuovo ah il furgone è nuovo è bellissimo quello è nuovo nuovo è ancora imballato a pochissimi chilometri scusa un momento pronto? che è successo? l'incidente con la furgone una furgone nuova e che c'è da cagno il parruzzo il parabrezza che cagno tutta la furgone che giornata vabbè 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 sì sì posso farci sapere ciao ciao senti fai una cosa sì felice ha riposto vatti a prendere un caffè vado a fare il servizio vado a prendere poco la macchina mia bravo bravo così mi approfittate anche per la bella giornata di sole cosa è l'umbrella mi pare eccomi qua tutto a posto? signore come ha trovato la carne? piscagno sotto il patano altrimenti non arriva proprio ah e invece la signora come ha trovato lo scorfano? coppa instagram mi ha buffato i messaggi alla fine e vabbè facciamo una stacetta vabbè può capitare a proposito il conto ecco qua il suo conto chi ha pagato e ecco qua cinque euro di resto vuoi due? mi hai portato cinque euro sano eh cinque euro e me lo devi portare di spiccioli scusa altrimenti come te lo lascio un euro di mancia? ah ecco perché così facendo geniale grazie per la dritta in verità scusatemi è il mio primo giorno e poi io ti imparare si aspetta che ti lasci cinque euro intero di pazzetta stai frisci ma non ti prendi spicci se la parla la prossima volta non mi riesci a dire ti ahm grazie instagram bloccatelo pure un coppa tic toc è permesso? da un bacio qua io ho portato quello che mi avete chiesto mamma mia che lo sei cieca secca nooo non lo nominate hai ragione non bacio qua sono un po' sangue mi posso sedere? per carità si spugna la seccilla e nuova addirittura ma buonasera quanto buona buona chiamo appi uffici e mi faccio cambiare l'arredamento e voi non ci credevate hai ragione l'importante è che lo ammestumano lo chiamiate vi ho portato ciò che mi avete chiesto buona buona che portate? fatevi i cornetto e voi madri ti porti i cornetto ma i cornetto che si alliscano non i cornetto che si mangiano e questo è il sette amatini che mi ha fatto sul pilotto non ha poche scure pure notte fatevi che lo sussurratici il padre non è venendo giù e mi piace che il padre stia vitturando ma va 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 per piacere va 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 che è meglio uno me lo mangio si andrà pure a buttare prego ah Cici finalmente sei arrivato ma tutto questo tempo ci hai voluto per venire e vieni a Porta Capuana non mi piace sono venuto a Porta Capuana ma voi fammi presto fammi presto i cornicioli ah questo si che bello io ti ho pure la capa per la cenella quanto attaccerà Cici? non mi piace che ho saputo da dieci euro in poi ha piacere niente di meno tutti questi soldi per l'uomo ma voglio ma vieni a Porta Capuana ma abbiamo capito vieni a Porta Capuana ma fai una cosa eh portati sti cornetto ti spugnando l'altro rimane mattina ma ora cominciamo aglio fra paglio fa truccare che non voglio ciò 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 va battendo presso a me posso riusciare la pescala chi vuole la domba pescala mirra senza e ora voto l'occhio secca fuori mia moglie si chiama Beatrice posso beneriggio per l'ufficio? si si fa una bella apprezzione generale a tutto l'ufficio va e ora c'è la rossa è proprio potente sono c'è mi sto purificando proprio tutti i peccati va vero eh certo che pure rubando me lo hai fatto il tuo peccato per rubare il peccato da fumare ehi allo che ti hanno detto al tavolo 6? niente chef la verità si sono lamentati perché dice che hanno trovato un capello nel piatto e tu che c'hai rito? che c'hai rito? che c'hai rito? che c'hai rito? però è così si fa io ho finito fra poco meno vado eh mi raccomando pulisci e metti tutto a posto ah a proposito non mi tocco assoluto eh ci metti a fare la casa di te per diman' ma stai tranquillo chef in verità prima che andate via una domanda ma qual è il margine di crescita? 12 ore che cosa? 12 ore ci vuole fare crescere la casa di te chi ha la margine? no chef intendo la crescita professionale cioè nel senso io lavorando qua come cameriere ho la possibilità di fare carriera di crescere che ne so un domani aprimi un ristorante tutto mio guadagnare qualche extra è verità vorrei parlare con il titolare ah è quello che sei in ufficio mi è arrivato vai 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 andando andando fai una cosa eh si portici questo bello caffè che ci fai tu a voi quello così ti premia glielo porto io vado va chef scusate ma è per comando però c'è un capello nel caffè non vorrei... ma che vuole essere rigida? che vuole essere rigida? che vuole essere rigida? fammi capire che vuole essere rigida? che io sto prendendo? che lei sto prendendo infatti recupero un attimo che sennò pare brutto che cade grazie chef vuoi capire vuoi capire? vuoi capire? non so è un piacere conoscervi che ho portati qua cavolo ci fate qua un bacio qua io? che ci fai tu qua? che hai portato la famiglia a mangiare fuori per far assaggiare il nuovo lavoro? no veramente non mi dire che sei venuto qua a pregarmi per farti riassumere un'altra volta in azienda eh? no basca io veramente qua faccio cameriere e volevo parlare con Mast e Mast e Mast sono qui? chi è il loro ristorante del domenico? veramente? eh eh c'è un ristorante del tuo vostro e questo sarebbe il grande lavoro che tu andavi a migliorare si? dico short come? no dico che proprio il primo giorno io sono venuto a sapere questa cosa anche perchè per l'assunzione io non ho parlato con voi ho parlato con lo chef e che dico chef quanto pigliava la settimana? 200 euro a settimana più le mangia ma che cosa hai capito? che lo chef è stato cucinato eh già ma perchè sei cameriere tu? tu devi buttare ti hai fatto finta di essere un cameriere perchè hai fatto l'alberghiere? non sei mai trasciuto in un'alberga sentiamo a me sentite posto alla massima massima papà sull'anno 100 euro a settimana questo è tutto questo è tutto? ci perché non lo fanniamo ma comunque ci facetemi capire come sticcare è peggio che prima ce la so sempre praticamente al massimo posso fare una cosa per te visto che tu tue tu hai perso di alle cose sorda più ti riassumo in azienda vieni a faticare in azienda come prima e eh è così quanto la sera perché vieni a affaticare qui in tono ristorante e ti hai perso di cose sorda io che sorda tu hai fatico va 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 pulando tutte cose la ricetta perchè è maggiore, ci vorremmo rimanere a fatica vabbè quindi allora facciamo rimanere in azienda un'altra volta il caffè e la sera vengo qui arrivederci, buona serata buonasera, guarda le finanze dovremmo fare un controllo va bene, va bene va in alto ma che state facendo? questa è una capiglia lanci tutte le sordi che la tieni una capiglia? è male, mi pensavo che era veramente un controllo guardia di finanze va bene, lanci tutte le sordi orioge, orioge orioge, si si, orioge ecco qua, orioge pure di lato, pure chi sta orioge aspettate, non diamo di pressa lo disse, non si leva uomo che bello la cravatta, la cravatta la cravatta pure è lente, è lente, è lente, dammi il lente